Perché questo titolo di sparecchiare la tavola periodica? La tavola, se le tavole si apparecchiano e si sparecchiano, noi abbiamo impiegato 150 anni per apparecchiare, fra virgolette, una tavola periodica di 118 elementi, ma potremmo mettercene un pochino di meno per sparecchiarla, cioè svuotarla, perché stiamo consumando in maniera sempre più importante molte risorse non rinnovabili del nostro pianeta. Il problema naturalmente è aggravato dal fatto che siamo tanti e siamo sempre di più perché stiamo raggiungendo, ormai penso che ci manchi poco, agli 8 miliardi e quindi consumiamo. Man mano che la ricchezza si allarga e si alza il tenore di vita, la richiesta, soprattutto nel campo della strumentazione e dell'elettronica, aumenterà in maniera esponenziale e quindi anche la richiesta di tutti i materiali che servono per far funzionare questi oggetti. Questo articolo, che è stato abbastanza contestato, è del 2013. Un gruppo di ricercatori inglesi ha avuto l'idea di fare una botta di conti per capire se e quando potremmo restare a secco di alcuni elementi, perché sappiamo che non sono distribuiti, vedremo tutti nella stessa quantità sulla crosta terrestre. Quindi loro hanno fatto un conto basandosi sull'entità dei giacimenti minerari che si conoscevano nel 2012, perché i dati sono sempre di un anno prima, e il consumo industriale mondiale. Quindi hanno fatto un conto un po' da dispensa di casa. Però diciamo che mentre la produzione industriale si riesce abbastanza a quantificare, quanto c'è dentro una miniera è una stima, perché non è che li pesiamo prima e dopo. Quindi va sempre preso con un certo margine di incertezza. E' stato anche contestato, perché secondo alcuni non bastavano questi due parametri, insomma c'è stato un po' di discussione, ma io credo che sia un campanello d'allarme, cioè al di là degli anni e dei numeri, si fa capire che il problema c'è ed è un problema serio. Quindi loro hanno detto cosa succede agli elementi nel corso del tempo, quanti anni ci restano prima che rimaniamo senza. Allora tiriamo via tutti gli elementi artificiali, perché tanto quelli non si fanno se non ci sono gli altri, quindi la cosa è abbastanza automatica. Nell'arco di 5-50 anni dal 2013, quindi sono già poi passati anche quasi 9 anni, gli elementi rossi dovrebbero sparire. I 5 sono già passati e non sono ancora spariti, per cui si sta spostando un po' in avanti la cosa. Fra 50 e 100 anni perdiamo gli arancione e in mezzo si fa il vuoto. Parte il ferro, che nel ferro ce n'è, è l'elemento più stabile della tavola periodica, quindi quello ne abbiamo a bizzeffe. Tra i 100 e i 500 anni dovrebbero sparire anche gli altri gialli. Quindi rimane abbastanza poca roba, tra cui abbiamo 5 gas nobili, di cui uno radioattivo, e altri 7 elementi radioattivi. Quindi è uno scenario abbastanza apocalittico, cioè con cosa vivremo. Senza fare terrorismo psicologico, però è un campanello d'allarme. Occhio che le risorse sul pianeta non sono infinite. Questa è una tavola periodica dove gli elementi sono marcati in base al fatto che siano metalli, non metalli o metalloidi. E' interessante notare che abbiamo una tavola super metallica, perché i non metalli, i non metalli, tra cui tutti i gas nobili, che sappiamo che come reattività, non diciamo è come se non ci fossero, ma più o meno, non sono mica tanti. Poi abbiamo i metalloidi, a parte in un servizio della settimana scorsa, tra l'altro è una cosa tecnologica, che hanno definito il boro come un metallo, ho detto va bene tutto. Cioè lui fa quello che può, ma è un po' di qua e un po' di là. Quindi abbiamo tanti metalli. I metalli, come i minerali non metalliferi, il petrolio, il gas e il carbone, sono risorse non rinnovabili. Cioè vuol dire che quando saranno finite, saranno finite, punto. Non abbiamo il pianeta B. Ci stiamo cercando di creare l'asteroide B o la luna B, ma ci sarà ancora un po' di tempo. Quindi sono risorse che dobbiamo tenercele care. Però anche le famose risorse rinnovabili, cioè quelle che possono essere ripristinate, non è che le possiamo usare in maniera indiscriminata, perché i tempi di recupero non sono poi così veloci per tutte. Infatti vedremo che fra le materie prime critiche c'è anche quello che viene fuori da una pianta, perché le specie vegetali e animali si estinguono. Ne abbiamo fatte sparire tante. L'anno scorso si sono estinte 24 specie animali. Non ci sono più sulla faccia della terra. Quindi anche lì dobbiamo avere un po' di criterio. E per quello che fanno i fermi della pesca, e questo è quello, perché se non diamo tempo poi alle specie di riprodursi, dopo ci svuotiamo il pianeta anche di quelle. Questo è il Mineral Baby. Ogni anno l'associazione mineraria pubblica un poster ai noi in libre galloni, quindi ogni volta mi tocca rifare tutte le conversioni a mano, che è una bella rottura, perché il sistema metrico decimale negli Stati Uniti non esiste. e loro calcolano che cosa consumerà di risorse non rinnovabili un americano che nasce quell'anno considerando un arco di vita di quasi 79 anni, che è la loro media. Se fosse un italiano sarebbe più di 80 in realtà, perché noi mangiamo meglio, abbiamo una vita un po' meno demenziale e quindi viviamo un pochino più a lungo. E vengono fuori dei numeri che fanno impressione, soprattutto che così a occhio non si capiscono, perché il primo numero è il sale. Allora io capisco che uno vede questa tabella e dice quando mai in vita mia consumerò 136,5 quintali di sale. Invece il problema nostro con le risorse è che ci rende meno sensibili al problema e che noi non abbiamo mai idea di quanto viene consumato per produrre gli oggetti che usiamo tutti i giorni. Questo qui è uno smartphone, questo è un oggetto sofisticato. Dentro qua ci sono 44 elementi della tavola periodica, dei pochini, ma ci sono. Ognuno ha una sua filiera che consuma combustibili, che acqua, prodotti chimici, risorse in tutto il suo arco di vita. Quindi quel sale lì entra in tanti processi industriali che noi non vediamo e quindi ignoriamo. Pensiamo che non ci siano. Questo ci dice l'impatto dell'umano sulla Terra che è molto pesante anche per questo motivo. Poi con la rivoluzione industriale questa cosa si è esasperata perché abbiamo messo mano a quantità e anche a varietà sempre maggiori di metalli. L'ultimo giro di BOA è stato con l'introduzione delle rinnovabili e con la miniaturizzazione di tutta l'elettronica. Questo è stato possibile grazie all'impiego di tutta una serie di elementi della tavola periodica che una volta erano solamente oggetto di studio nei laboratori di ricerca, ma adesso ce li abbiamo negli smartphone comprese le famose terre rare di cui parleremo fra pochi secondi. Quindi la domanda iniziale spero non sentiate lo smartellamento sulla miera che sento io in questo momento. quindi noi potremmo anche tradurre il titolo iniziale con una domanda che era meno elegante come titolo di conferenza di che cosa resteremo prima senza. Perché sono in ballo tutte le tecnologie sia per il trasporto, la mobilità, l'energia ma anche tutta l'elettronica e anche la parte ludica dalle playstation ai tablet e tutte queste cose. Quindi sono in ballo molte cose. Adesso ci siamo accorti da quando c'è il problema Covid delle difficoltà di approvvigionamento dell'elettronica. C'è un nodo sui componenti che si fanno fatica a trovare. La Toyota ha dovuto ridurre la produzione delle macchine perché non riesce ad avere tutti i componenti perché ormai un computerino c'è dentro ogni macchina. Ma io ho visto anch'io la stampante la tavoletta grafica, il portatile che ho ordinato per lavoro alla stampante ci ho messo nove mesi l'altro ce ne ho messi dieci. Quindi è stato abbastanza con i canali del MEPO ovviamente. Se vai in negozio le trovi anche ma ho fatto fatica anche a trovare le webcam per i collegamenti durante il lockdown perché erano completamente spariti e non arrivavano i rinforzi. E poi adesso abbiamo il problema del gas che è un problema politico non è un problema di risorse perché vedremo che anche quello non scherza come problema. Nel progetto europeo qui vediamo i loghi RM Excurs è il progetto europeo che da parecchi anni è finanziato per parlare proprio nelle scuole di questo problema delle materie prime e soprattutto di trasformare voi studenti e insegnanti in come si dice moltiplicatori di conoscenza cioè passate parola che è importante. In Europa noi siamo un po' come i giapponesi abbastanza sfortunati dal punto di vista delle risorse minerarie ed energetiche rispetto ad altri continenti nel senso che dobbiamo importare molto da fuori territorio europeo. Questo ci rende vulnerabili perché se dovessero mancare alcuni elementi strategici siamo i primi a rimanere seduti per terra. Quindi l'Unione Europea già dal 2008 ha cominciato a fare una ricognizione per capire quali sono le materie prime critiche cioè elementi materiali minerali o qualsiasi altra cosa che sono essenziali per il nostro sviluppo tecnologico per la nostra economia ma che presentano delle criticità nell'approvvigionamento. Vedremo per tutta una serie di motivi. E questo monitoraggio è partito appunto nel 2008 ha portato alla compilazione di una prima tabella di materie prime critiche nel 2011 e poi ogni tre anni questo elenco viene rivisto quindi questa è l'ultima uscita nel 2020 e anche gli algoritmi con tutti i fattori pesati che influiscono sulla criticità anche questi vengono rivisti. Perché? Perché l'economia va velocissima le cose cambiano moltissimo da un anno all'altro e non possiamo permetterci di rimanere indietro. L'ultimo elenco ha 30 voci queste 30 voci sono tutti composti di origine inorganica o metalli tranne uno che è la gomma naturale vale quello che vi dicevo all'inizio cioè anche un prodotto naturale può essere un problema. Nella vostra scuola alcune classi mi hanno chiesto di fare la lezione quella sulla gomma perché la gomma ha alcune sue particolarità proprio perché è di origine biologica la gomma naturale quindi si fa un discorso diciamo separato perché ha alcuni problemi che sono solo suoi però noi non riusciamo per esempio della gomma a fare a meno negli pneumatici delle auto il 15% è gomma naturale dalle vee a brasiliensis e ne cambiano addirittura il 30% noi abbiamo centinaia probabilmente migliaia di gomme artificiali ma non riusciamo a sostituire al 100% il prodotto che c'è in natura perché non siamo capaci di replicarlo identico questo succede anche la seta è uguale noi facciamo tante cose simili ma identico non ce la possiamo fare quindi sono 30 voci ma dietro ci sono 51 elementi perché qui abbiamo tre voci terre rare pesanti terre rare leggeri metalli del gruppo del platino dietro cui si nasconde tutto un bel gruppetto di elementi li vediamo fra un attimo questo è il grafico con cui si decide se un elemento un candidato come li chiama l'Unione Europea è critico oppure no si applicano queste formule che fanno capo fondamentalmente a due problemi l'importanza economica e il rischio di rifornimento se facendo tutti i conti il pallino cade in questa zona qua la materia prima è considerata critica altrimenti no mi sono divertita diciamo divertita tra parentesi tra virgolette a guardare le revisioni ho spulciato tutti le varie documenti dell'Unione Europea per capire come si sono evolute le cose quindi qui abbiamo i candidati cioè quello che viene messo sotto osservazione vedete che ci sono sempre due tipi di dati quello fuori parentesi è il numero delle voci che compaiono nell'elenco quello dentro la parentesi è il numero degli elementi effettivi che sono sempre un po' di più tra un attimo poi vediamo quali sono quelli che sbilanciano il conto nel primo giro su 41 elementi diciamo voci studiate ne sono risultate critiche 14 nella prima revisione si è guardato solo al mondo dei metalli e dei minerali non ai prodotti naturali dal 2014 sono entrate anche sostanze di origine biologica di solito sono il legno da sughero la gomma naturale il mogano e il tec che sono altri due tipi di legno di questi solo la gomma naturale nelle ultime due è diventata critica gli altri per il momento diciamo che sono salvi quello che vediamo è che ogni volta che si guarda aumentano i candidati ma aumentano anche le materie prime che diventano critiche qua c'è stato quasi un raddoppio quindi effettivamente il problema rispecchia il fatto che consumiamo sono sempre di più questa è la grafica che si trova sui documenti dell'Unione Europea quindi tutti i pallini rossi sono le materie prime critiche i blu sono i candidati che per il momento sono salvi però possiamo osservare una cosa che intorno alla zona di confine qui c'è un po' di affollamento perché basta un attimo che un elemento passi di qua o di là infatti per la prima volta l'Unione Europea ha prodotto un grafico molto interessante che fa il confronto fra la posizione nel 2017 e nel 2020 per capire come si spostano le cose se prendiamo l'antimonio per esempio l'antimonio ha fatto un tonfo nella difficoltà di reperimento magari hanno trovato un giacimento importante cioè a volte sono piccole cose quindi gli spostamenti sono abbastanza grossi gli unici che non hanno la barretta sono gli elementi che sono entrati per la prima volta nell'elenco quindi non hanno un riferimento e le new entries come si dice sono quattro un minerale la bauxite che è un ossido di alluminio da cui si estrae l'alluminio appunto e tre metalli il litio il titanio e lo stronzio poi rispetto alla passata edizione è uscito un elemento cosa che succede abbastanza di rado ed è il gas elio il gas elio è importante perché serve per mantenere la bassa temperatura nei superconduttori sono quei metalli che conducono e quindi sono anche magnetici solo a bassissime temperature l'elio lo troviamo in tutte le risonanze magnetiche nucleari che siano le nostre da laboratorio per analizzare un tubicino così che un umano che viene infilato dentro la macchina però quello è uno dei consumi dell'elio per raggiungere queste bassissime temperature adesso l'importanza economica si è leggermente ridotta quindi è lì ma è salvo il nickel è stato lì per entrare se aumenteranno le auto elettriche il nickel entra perché ne servirà sempre di più per la batteria quindi è una cosa sempre da rivedere ecco ho segnato con la cornice blu le famiglie di elementi e vediamo subito quali sono una sono le famose terre rare cioè è un insieme di elementi che sono tutti i lantanidi che sono 6 più 8 14 più lo scandio elittrio le terre rare le hanno chiamate così rare non perché in realtà non ce n'è poco sulla crosta terrestre ma le hanno chiamate rare perché tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento quando le hanno individuate nei giacimenti soprattutto nel nord Europa cioè i paesi scandinavi hanno fatto una fatica pazzesca a separarle fra di loro perché viaggiano sempre insieme nei giacimenti e anche a distinguerle le une dalle altre è stato molto complicato per cui era raro trovarle pure in realtà ci sono elementi che sono molto più rari sulla crosta terrestre ogni anno noi ne consumiamo quasi 140.000 tonnellate sono 14 torri Eiffel di terra rare perché ne usiamo in quantità molto importanti almeno alcuni pensiamo al neodimio che si trova nei magneti se prendiamo una palla eolica ci sono due tonnellate di terra rare solo nel magnete sopra dalla palla quindi si fa presto poi a far tanto per comodità sono divise in due blocchi quelle leggere che sono i primi sei lantanidi dal lantanio al samario e lo scandio e le pesanti sono tutti gli altri più litri per questione di giacimenti applicazioni tecnologiche si preferisce tenerli separati poi l'unione europea nelle ultime due edizioni delle materie prime critiche ha pensato bene lo scandio di scorporarlo quindi nelle prime edizioni lo scandio insieme alle terre leggere quindi uno dopo diventa matto a fare i conti invece nelle ultime due lo scandio ha una voce a parte queste sono scelte si vede per i loro algoritmi diventava più semplice fare le cose così poi abbiamo i metalli del gruppo del platino i pgm questi sono invece molto rari sulla crosta terrestre sono quasi degli alieni soprattutto di ridio ne consumiamo ogni anno 635 tonnellate circa ne consumiamo di meno se meno male perché ce n'è poco eccoli qua sono metalli che sono fondamentali per moltissimi processi industriali per fortuna in molti si usano come catalizzatori quindi non ne servono delle quantità massive ma si rigenerano più o meno alla fine del processo molti processi industriali per produrre polimeri materie prime chimiche pesticidi di farmaci sintesi varie hanno la loro base un catalizzatore a base di uno di questi metalli nelle marmitte catalitiche ce ne sono tre di questi tra l'altro avevo letto un articolo poi di recente sulla nuova Ferrara in cui dicevano che il problema grosso è che rubano le marmitte catalitiche cioè arrivano col flessibile e ti seguono facendo una marea di danni anche Ferrara per recuperare proprio questi perché c'è un mercato clandestino di questi elementi che valgono un sacco uno pensa che il platino sia il più caro ma il palladio è molto molto più costoso del platino e tra l'altro hanno questa cosa simpatica che in un processo anche se chimicamente sono simili come struttura elettronica alcuni non si possono interscambiare gli uni con gli altri quindi se in un processo ci vuole il palladio non posso mettere il platino al suo posto anche se ha lo stesso guscio elettronico esterno non funziona ci stanno provando perché si risparmierebbe paradossalmente ma non ce la facciamo qui ho fatto un giochino ho messo insieme il lavoro degli inglesi con le materie prime critiche cornici blu a volte non è che manchi tutto l'elemento ma solamente un suo materiale e vediamo che le due narrazioni raccontano due cose diverse prendiamo le terre rare che si vedono bene qui sotto le terre rare sono quelle che hanno centocinquecento anni quindi non così drammaticamente rare però sono critiche questo perché? perché in realtà nella criticità di un materiale entrano fattori che non sono legati soltanto alle riserve e alle miniere questo è il punto era anche il punto che avevano contestato agli autori di questo lavoro che non avevano una visione completa vediamo il primo fattore allora il primo fattore è quello ovvio se ce n'è poco sulla terra ce n'è poco non c'è niente da dire l'unione europea ha imperversato nell'anno internazionale della tavola periodica con questa rivisitazione di una tavola inventata l'ha scritto in bianco i disgraziati così non si legge bene nel 76 da un gruppo di ricercatori dell'università di Austin nel Texas e tra l'altro era brevettata adesso è scaduto il brevetto quindi hanno potuto fare un restyling e l'hanno rimessa in giro l'idea era di dare a livello visivo di dare subito l'immagine di quanto un elemento sia scarso o abbondante sulla crosta terrestre rispetto agli altri quindi più il blob perché chiamarle caselle è un po' azzardato è grande più ce n'è rispetto agli altri anche questa è stata molto contestata perché in realtà se andiamo a guardare i numeri su cui andiamo sul tranquillo sicuro non è che poi sia sempre vero questo infatti se prendiamo prendiamo l'alluminio qui e l'iridio qua guardiamo i numeri le parti per milione che questo è un dato abbastanza più meno così visivo ma andiamo sul solido e le parti per milione dell'alluminio che è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre teniamo presente sulla crosta più è leggero più sta sopra vale sempre la gravità anche per i metalli ci sono 84.149 parti per milione guardiamo il fondo a scala che è l'iridio sono 0,4037 quindi veramente un nulla allora se dovessimo rispettare questi rapporti noi qui l'iridio non lo vediamo neanche sarebbe un velo sottilissimo quindi anche questa va presa un po' con le pinze però sicuramente se ce n'è poco ce n'è poco su questo come se dice non ci piove poi c'è anche una cosa che non solo non c'è la stessa quantità di tutti gli elementi sulla crosta terrestre ma sono pure potremmo dire distribuiti male nel senso che ci sono zone territoriali piene bombate di miniere di giacimenti e zone dove non c'è un accidente di niente questo naturalmente crea a livello internazionale molti problemi perché se un paese ha nel suo territorio tutte le riserve principali di un determinato elemento capite che a livello politico può fare quello che gli pare può dire decidere a chi darlo che prezzo applicare se mettere dei dasti se usarlo come arma di ricatto tante volte dietro ad alcuni trattati politici dietro a tutte le guerre che continuano a imperversare nel nostro pianeta sono più di 30 piccole ma ce ne sono sono sempre attivi i conflitti c'è sempre una risorsa magari è mascherato da questione politica a questione religiosa etnica così ma se vai a grattare sotto ci sono sempre dei soldi vediamo un po' com'è la distribuzione allora se chi lavorerà al progetto avrà a che fare con i documenti della Unione Europea allora adesso si fa molto e sono come le istruzioni degli elettrodomestici che ti mettono tutte le icone e non c'è una riga di testo poi sperano che tutti capiscano in effetti bisogna perderci un pochino di tempo quindi vi spiego come si leggono queste cose perché il primo impatto magari può essere così un po' stragnante l'Unione Europea ha scelto questa è una scelta dovuta a questioni di strategia e di mercato nove tecnologie da tenere sotto controllo che sono considerate importanti alcune sono tecnologie abbastanza adattate come quella dei motori a trazione pensiamo le auto eccetera altre come i droni sono cose invece che sono entrate da poco nelle considerazioni quindi o la stampa in 3D quindi cercano di stare al passo con i tempi ognuno è assegnato un colore che è sempre lo stesso in tutti i documenti e vediamo come cambiano gli scenari a seconda del passaggio dello stadio di produzione di una determinata tecnologia se guardiamo brutalmente le miniere le materie prime chi è che domina la Cina seguita dall'Africa l'America Latina e poi un po' tutti gli altri ma sicuramente la Cina e il paese ha anche un'estensione territoriale enorme come anche l'Africa che è anche molto più grande di quanto non pensiamo perché le nostre cartine sono tutte sballate perché quelle di mercatore hanno tutte le proporzioni che sono fuori misura l'Africa è molto più grande di quanto non pensiamo sono quelle che dominano ma nel momento in cui abbiamo estratto il materiale e lo dobbiamo lavorare allora cambiano le cose perché lì servono le tecnologie allora chi comincia a avere un peso importante sono l'Europa il Giappone gli Stati Uniti la Cina e il resto dell'area si ridimensionano perché qui vale il tempo di studio la lunga tradizione di ricerca e quindi quello ha un suo peso quando passiamo a costruire i componenti che sono quelli che adesso creano dei grossi problemi di approvvigionamento vediamo che gli scenari si spostano ancora sono dei paesi come l'Africa la Russia e l'America Latina che scompaiono dal quadro cioè hanno un impatto veramente minimo e poi c'è l'assemblaggio finale e anche lì si cambiano gli scenari quando fanno elaborano queste tabelle c'è gente che fa solo quello perché lì bisogna farlo a tempo pieno devono tenere conto di tutti questi fattori quindi è molto complicato capire perché i mercati adesso tra le delocalizzazioni delle produzioni e tutti i giri sono veramente complicati e si parla di quello che è legale poi c'è tutta una parte sotterranea che è un po' difficile da quantificare certamente anche nelle decisioni politiche contano questi rapporti commerciali ci sono dei paesi con cui non ci possiamo permettere di litigare perché altrimenti poi ci chiudono i rubinetti sicuramente con la Cina dobbiamo andare molto delicati perché dipendiamo per quasi la metà delle materie prime critiche a livello europeo e poi abbiamo un ventaglio di altri paesi adesso ci siamo persi il Regno Unito il Tunsteno ci siamo persi e forse anche un po' di antimonio perché poi alla fine quando uno ragiona in questi termini ragiona in termini del materiale che ci manca perché hanno per tanto tempo hanno coccolato la Turchia per l'Unione Europea abbiamo fosfati e borate perché alla fine se uno ci pensa dopo è tutta è abbastanza crudo come mondo il Sole 24 Ore questo nel 2018 ha pubblicato questo articolo in cui analizzava le miniere che la Cina acquista in territorio africano la Cina sta facendo shopping in Africa da già parecchi anni compra miniere giacimenti petroliferi e anche tutti i terreni che ci sono intorno di gestisce con personale che arriva dalla Cina quindi il controllo è molto stretto e non sfugge niente e se guardiamo questo elenco che è solo una parte di quello che viene pescato in Africa sappiamo già dove va a parare questa è tutta roba che serve per le batterie quindi rinnovabili autoelettriche il giro è sempre quello ecco un altro problema che questo è un po' più tecnologico è che per estrarre dai minerali dalle miniere gli elementi bisogna operare una serie di passaggi chimici che sono molto impegnativi dal punto di vista ambientale ci sono rischi tossicologici per i lavoratori ma anche di inquinamento nelle zone più c'è tutto il problema del combustibile perché se dobbiamo far andare un alto forno dobbiamo far andare un'estrazione dall'abauxite dobbiamo superare i mille gradi quindi ci serve un sacco di energia di solito si fa col carbone o col petrolio ma il carbone si usa ancora abbastanza nell'attività mineraria per restare l'oro per purificarlo perché l'oro non lo troviamo come composti ma già come metallo ma va pulito adesso si usano i cianuri se il cianuro scappa è un veleno anche per altre specie abbiamo tutti i pesci accoppati questo come dice ha fatto filotto una una miniera argentina che praticamente con una fuoriuscita di cianuro ha seccato cinque fiumi in una botta sola che è un primato triste ma è un primato una volta si usava il mercurio si faceva l'amalgama col mercurio viene ancora usato nelle lavorazioni clandestine il cianuro ha una tossicità immediata è un veleno il mercurio è più pericoloso perché nell'ambiente si deposita l'organismo umano lo assimila e non lo smaltisce quindi lo accumula nel corso degli anni distrugge il sistema nervoso centrale cioè la gente è ridotta a larve praticamente e quindi è molto subdolo perché ci mette del tempo invece cianura immediato per restare il rame o i metalli del gruppo del platino serve l'acido nitrico l'acido nitrico produce degli ossidi di azoto nella lavorazione che sono fanno questi vapori rossastri li vedremo in una foto di una lavorazione clandestina che sono molto tossici irritanti per l'apparato respiratorio e alla lunga sono cancerogeni questa è una miniera di rame e fuori quello che viene fuori dalle lavorazioni macchia tutto l'ambiente e lo chiamano il rio tinto ma se prendiamo Chamonix Creek che è negli Stati Uniti ed è una miniera di rame uguale cioè l'impatto è lo stesso questa è una miniera di terra rare questo è il giacimento di Mountain Pass negli Stati Uniti sono miniere a cielo aperto quindi poi tutte le polveri girano sono colorate per estrarle bisogna usare l'acido cloridrico che in realtà è un gas sciolto in acqua quando abbiamo la boccia di acido cloridrico c'è scritto 37% quello concentrato è perché di più del gas HCL in acqua non ce ne sta però è molto volatile infatti se uno apre la bottiglia si sente subito bruciare cioè ti manca l'aria proprio questa si spande nell'ambiente ma anche nelle acque questa per esempio qua vi hanno beccato una falda acquifera e quindi poi è andato nelle falde freatiche e quindi ha creato poi dei problemi di inquinamento a lungo raggio quindi ci sono residui di metalli pesanti nelle acque di lavorazione ma ci sono anche sostanze radioattive perché con le terre rare pesanti spesso abbiamo insieme torio e uranio quindi c'è anche un altro problema in più infatti la Cina adesso è attualmente il maggiore produttore di terre rare venditore di terre rare nel mondo a più del 90% del mercato perché costa di meno la lavorazione quello negli Stati Uniti è molto più caro in realtà la Cina ha il 55% dei giacimenti ma dal 92% al 98% a seconda delle tabelle della vendita e quindi ha un monopolio questo è quello che può succedere intorno a una miniera cioè vivere vicino a una miniera non è una bella cosa perché l'ambiente comunque è devastato a vari livelli questo è il caso estremo ed è in Russia è la città mineraria di Norilsk si trova all'interno del circolo polare attico quindi già il clima è abbastanza inclemente per buona parte dell'anno ma qui in questa miniera a cielo aperto sembrano i gironi dell'inferno di Dante delle stampe io quando andavo a scuola c'erano quelle stampe quando facevamo la Divina Commedia affettate per così e sono uguali proprio quei gironi coi gradini e qui si trova è prodotto il 35% di tutto il palladio che c'è in giro nel mondo un quarto del platino un quinto del nickel e un decimo del cobalto la circolazione delle persone è limitata nel senso che è come la è la cassaforte della Russia quindi viene è ultra protetta perché è veramente strategica l'aspettativa di vita è la più bassa della Russia perché l'ambiente è devastato cioè ci sono anche le lavorazioni non solo l'estrazione l'impatto ambientale è già pesantissimo qui addirittura abbiamo il classico caso di una fuga dalla fabbrica dalla lavorazione del nickel questo colore per un chimico è inconfondibile è un derivato che la lacca rosa con il nickel con la DMG è un marchio di fabbrica quindi c'è un problema per cui a volte si scoprono i giacimenti ma non è che se specialmente si sono vicini a una zona abitata non è che sia facile aprire una miniera perché già è un problema aprire una discarica ma una miniera è anche peggio quindi c'è molta resistenza l'Unione Europea sta mappando i giacimenti minerali continua a farlo ma non è che le aprono li tengono lì in caso non ne arrivassero più allora cominceremo a fare leva sulle persone per aprire i giacimenti dove i minerali ci sono e poi c'è un'altra cosa curiosa che è chiamata quella degli autostoppisti cosa vuol dire noi quando pensiamo miniera di paoxite miniera di piombo miniera di ferro miniera di rame siamo portati è automatico pensare che dentro ci sia solo quel metallo ma non è così quello è il metallo principale potremmo dire il guidatore della macchina il proprietario però dopo i passeggeri che sono altri metalli che viaggiano insieme per esempio una volta andato in una miniera di smesso in Sardegna dove estraevano l'argento dopo il filone di argento si era la galena argentiva si era esaurito però insieme c'erano degli altri metalli come piombo ferro eccetera quindi il problema è quando il passeggero diventa più importante del guidatore perché non è come quando uno va a fare la spesa al supermercato mi serve una cosa guardo nello scaffale piglio quello che mi serve metto in carrello e vado alla cassa in miniera è come se io fossi al supermercato mi serve una cosa mi prendo giù tutto lo scaffale lo carico sul carrello lo pago e poi dopo smisto quello che mi serve e quindi se smetto di estrarre il minerale principale per un qualche motivo resto poi accorto di quelli secondari cioè degli autostoppisti l'esempio classico sono indio e gallio indio e gallio non hanno miniere loro sono nelle miniere di zinco o in quelle di alluminio o di stagno per l'indio o di piombo quindi non sono metalli l'alluminio ne estraiamo di meno perché lo ricicliamo bene ed è molto conveniente quindi se io smetto di estrarre questi metalli o riduco l'estrazione automaticamente resto corto di tutti gli altri e indio e gallio servono in tutti sono i semiconduttori che servono a fare qualsiasi chip elettronico di qualsiasi cosa i derivati dell'indio e del gallio ci sono sempre quindi capite l'importanza poi le terre rare viaggiano in corriera cioè tutte insieme e lì è un altro problema e lo stesso i metalli del gruppo del platino poi per un chimico sa che separare due composti che hanno una composizione chimica abbastanza simile è molto più difficile che separare due elementi molto diversi fra loro perché è più cioè il lavoro diventa più complicato l'altro punto il penultimo è il fatto che siano indispensabili per alcune tecnologie ci sono elementi che non hanno sostituti se non c'è quello non funziona niente io posso avere un missile intercontinentale grande chissà quanto se non ho quell'inneschino di iridio per la testata nucleare che è un cilindretto che sarà un centimetro quello non funziona quindi ci sono dei colli di bottiglia questo grafico va letto in questa maniera perché anche qui nei documenti te lo schiaffano così e poi ti devi arrangiare a capire che cosa c'è scritto allora l'Unione Europea ha messo sotto la lente di ingrandimento sotto i riflettori nove tecnologie che abbiamo visto anche nel grafico prima per fortuna sono le stesse e tre macro settori che sono le rinnovabili la mobilità elettrica e la difesa e l'aerospazio quella è strategico quella c'è sempre la mobilità elettrica è entrata da poco ovviamente come si legge questo grafico spiega le interconnessioni fra i settori prendiamo l'eolico che è il più facile da leggere l'eolico ha il cerchiolino verde delle rinnovabili infatti dove lo troviamo l'eolico per produrre energia fotovoltaico anche qui produciamo energia lo troviamo nelle rinnovabili ma abbiamo anche la difesa e l'aerospazio perché tutti i satelliti devono usare delle celle sorarie non è che possono fare il rifornimento di carburante nello spazio e quindi i cerchi danno i collegamenti con le macro aree poi intorno in grigino ci sono le interconnessioni fra le tecnologie allora se prendiamo l'ultima che è la più incasinata è quella della informazione della telecomunicazione cioè i circuiti chip e questo si collega con tutti gli altri l'unico che manca è se stesso ce ne sono otto su nove perché il nono è il chip stesso perché? perché io ho un chip come vi dicevo lo trovo ovunque quindi si legge così questa cosa questa tavola periodica dà la possibilità di sostituire un elemento quindi ed ha anche le percentuali di in cui diciamo non si può fare niente quindi va dal blu al rosso allora al blu non c'è nessuno e già questo ci dice che per ogni elemento c'è almeno un'applicazione in cui se non c'è lui niente più si va verso il rosso più è difficile sostituirlo se poi il numerino sotto è 100 che ovviamente non è il peso atomico vuol dire che se in tutte 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 le applicazioni se io non uso quello non funziona niente oppure non riesco a trovare un elemento che funzioni allo stesso modo e con dei prezzi paragonabili su questo la scienza sta lavorando moltissimo l'investimento è molto alto e dico se uno vuole nel futuro pensare di fare di lavorare nel settore dei materiali dovrebbe tenere d'occhio queste queste tipo di tecnologie perché lì c'è un futuro enorme perché serviranno sempre di più che sia un ingegnere un fisico un chimico quindi si occupano di materiali sicuramente questa è una cosa su cui puntare perché ne avremo sempre più bisogno questa è la proiezione di Bloomberg delle richieste di una serie di elementi per le batterie per le macchine elettriche alcuni di questi sono già materie prime critiche e altre sono lì per diventarlo quindi vedremo quante ne potremmo produrre perché potrebbe essere che abbiamo la tecnologia ma poi non ci mancano i materiali quindi in realtà bisognerebbe pensare a tutta la mobilità soprattutto quella urbana in maniera più intelligente perché non è che cambiando dall'auto a benzina all'auto elettrica risolviamo i problemi ne togliamo alcuni per crearne degli altri quindi ci vuole un po' di intelligenza perché a volte la fanno un pochino troppo facile infatti mi arrabbio sempre quando sento certe cose perché non ne hanno idea questa è una palla eolica allora questa è una turbina di quelle grandi io le ho viste in Germania e sono veramente fanno impressione perché sono un grattacielo praticamente e dentro c'è in una questa non è quello che c'è sotto non è un parco eolico è una turbina di un parco eolico quindi moltiplicate per 10 15 20 è un idrovole di risorse pensiamo alle due tonnellate di terre rare al rame l'alluminio l'acciaio è una cosa abbastanza grossa questo è quello che sta dentro uno smartphone ci sono tutti gli elementi che servono per tutte le varie applicazioni perché se non avessimo il tungsteno noi il touch ce lo scordiamo il touch screen da qualsiasi parte quindi c'è tanto praticamente se gli elementi naturali sono 94 quelli che estraiamo dalla natura cioè ne abbiamo 44 su 94 togliamo i gas nobili siamo a metà della tavola periodica anche un po' oltre la metà ecco e questo è l'ultimo punto è un punto in cui anche noi come singoli possiamo fare qualcosa di importante cioè non siamo diciamo ininfluenti ed è la filiera del riciclo questi sono i tassi di riciclo delle materie prime critiche dell'elenco rispetto alla domanda annuale allora anche il tunsteno che è il metallo più recuperato di quelli critici ovviamente qui non abbiamo l'acciaio l'alluminio perché non sono materie prime critiche meno male altrimenti saremo fritti però non riesce neanche a coprire metà della richiesta quindi comunque vuol dire che noi dobbiamo continuare a comprare e comprare e per alcuni siamo a livelli siamo a livello zero o a livelli che sono troppo bassi questo è un dato mondiale quello è un dato europeo questo è il dato mondiale dell'ONU sulla la percentuale di riciclo post consumo tutto quello che ha quel colorino che sembra un colore aragosta slavato è praticamente recuperato a fine vita dell'oggetto per meno dell'1% quindi c'è tanto da fare anche qui la tecnologia può fare una sua parte ma una parte la fa anche il senso civico delle persone e l'intelligenza dei governi o delle grandi organizzazioni è un lavoro una partita che si gioca a tre questa qua i metalli a differenza di altri materiali si possono riciclare all'infinito il simbolo questo che il metallo se lo riciclo bene non si rovina nell'operazione perché essendo un materiale inorganico è bello robusto un polimero ogni volta che lo ricicliamo peggio ancora la carta lo chiamano il down cycle è un riciclo a cascata ogni volta perde qualcosa perché si ossida si degrada un po' e così quindi abbiamo perdite se voglio rovinare un metallo devo bruciarlo in un termovalorizzatore insieme all'indifferenziato perché lì si va oltre i mille gradi in presenza di un sacco di altre porcherie di tipo organico per cui qualche fenomeno di corrosione indebolimento della struttura ci può stare tra l'altro la separazione diciamo dei metalli principali non è un'operazione così difficile da fare che richieda delle tecnologie ultra sofisticate almeno per quelli più massivi perché quello che è magnetico li faccio passare su un rullo con un cilindro di neodimio sempre a terra rara magnetizzato quelli restano attaccati e il resto va oltre quindi si fa in un capannone se guardate su youtube c'è il filmato di Coreve che è del 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 accogelme che è il consorzio quello dei metalli sembra sembra un giochino ma è proprio sembra una cosa per deposito della frutta è proprio molto brutale con dei cassoni di plastica poi in uscita ci si mettono dei dei generatori di campi magnetici che producono delle correnti parassite ogni volta che passa corrente in un filo si genera un campo magnetico e un campo magnetico genera sempre una corrente perché viaggiano sempre insieme quindi se non c'è niente di metallico va giù dritto finisce per terra o nel cassone sotto invece gli altri saltano e finiscono in un altro cassone e si separano i metalli da plastica legno carta insomma quello che ceramica che non è metallico poi se voglio fare una cosa un po' più raffinata allora posso applicare lo stesso sistema delle correnti per separare i metalli fra di loro lì si lavora un pochino più in maniera delicata cosa ci guadagno rispetto alla miniera risparmio energia materia prima evito di mettere anidride carbonica nell'atmosfera e i guadagni sono anche del 95% come nell'alluminio rispetto all'estrazione miniera quindi è veramente vale la pena farlo nei nostri rai cioè nei rifiuti da apparecchiature elettroniche c'è tutta questa roba qua e molti sono come possiamo vedere materie prime critiche oppure metalli preziosi o anche preziosi e critici quindi tutte e due insieme sono delle miniere nelle nostre città nelle nostre potremmo dire pattugniere a livello mondiale il riciclo dei metalli è da elettronica è tristemente basso anche se sta aumentando il consumo di questa roba siamo al 17,4% tutto il resto non sappiamo bene dove va a finire vedremo qualche cosa dove può andare a finire ma non è bello tutto questo valore così basso è tenuto su dalla sola Europa con il suo 42,5% da cui non riesce a schiodarsi però cioè è firma da anni sempre lì Asia e America che hanno anche paesi molto industrializzati ma sono ma molto ma molto sotto l'Europa cioè 3-4 volte di meno quindi è veramente imbarazzante questa cosa qua c'è una non volontà di lavorarci su come mai intanto in molti paesi anche europei i RAI non sono raccolti finiscono in discarica il posto peggiore dove andare a finire cioè il peggiore abbandonati nell'ambiente il dumping dove capita capita dopo c'è la discarica poi ci sono le perdite per esempio i furti a Ferrara nell'area ecologica lì quella di a Ferrara i paesi ne hanno sono andati già due volte dopo hanno fatto solo dei danni perché c'è l'impianto d'allarme cosa vanno cercare l'elettronica i cavi per recuperare il rame e i metalli preziosi che vengono poi recuperati i cavi gli si dà fuoco la plastica fonde e si recupera il metallo così fanno anche con gli pneumatici con impatti ambientali che sono terrificanti perché c'è veramente di tutto poi a volte escono dal territorio europeo o italiano perché vengono esportati allora c'è una catena che da questo punto di vista è lodevole perché recupera le apparecchiature che per noi sono un po' vecchie ma messe a posto sarebbero funzionanti perché essere usate in paesi o da onlus quindi sono come donazioni oppure anche venduti a un prezzo però basso paesi che non possono comprare l'ultimo grido in un certo settore questo dal punto di vista di un'economia circolare è ottimo perché prolungare la vita è molto meglio che non riciclare un materiale il problema è che in questi paesi quando proprio schiantano del tutto non c'è poi una filiera di recupero quindi si sposta nel tempo all'abbandono e a casa di qualcun altro oppure ci sono società che si travestono da onlus o così in realtà è una copertura per un trasferimento illegale di materiali in paesi dove vengono recuperati in una qualche maniera le cose che valgono di più faccio vedere un po' di foto perché si commentano da sole qui siamo in Thailandia qui sono anche le condizioni migliori lavorative rispetto qui siamo in India questi sono i famosi vapori di ossido di azoto via l'aria a mani nude non commento qui siamo in Cina questa è una discarica che è molto gettonata dai servizi televisivi di qualsiasi nazione io ormai l'ho vista in tutte le salse perché è enorme è in Ghana e quando vogliono fare un servizio vanno lì perché vanno a colpo sicuro perché fa effetto perché è gigantesca ma non è l'unica è la più grossa naturalmente vediamo tutta questa roba buttata nell'acqua tutti i metalli i residui tutta roba le sostanze anche organiche tossiche finiscono nel terreno nelle falde acquifere entrano nella catena alimentare e dopo diventano biodisponibili quindi sono guai questo è il recupero della parte metallica degli pneumatici e dei cavi elettrici in questi fumi sono pieni di cancerogeni da diossine policicli aromatici un po' di benzopirene tutto quello che vogliamo e la baraccoppoli è qua dietro quindi arriva il vento e se la respirano tutti ma ho visto una cosa in un impianto in Cina non è che fosse tanto diverso quelli un po' diciamo estemporanei ecco qui entriamo in gioco noi se noi sbagliamo a fare la differenziata perché? perché se io metto per esempio cellulare forse capita meno ma se questa tastiera io la butto nella plastica è vero che la maggior parte di quello che c'è qui è ABS acrilo nitrile butadiene stirene è una gomma però non viene riciclata nelle campane della plastica nei centri perché lì si mettono solo gli imballaggi questo è un oggetto non è un imballaggio e poi ci sono dei contatti di oro dentro cioè ci sono dei metalli lo stesso vale per le cuffiette gli auricolari nella cuffietta c'è un bottoncino c'è del neodimio c'è un magnete quindi questi vanno portati nei RAE perché altrimenti si sbaglia a volte due volte perché dopo se vanno al posto sbagliato vengono buttati a bruciare o in discarica quindi si perdono poi c'è un problema tecnologico e questo è un po' più difficile da risolvere cioè ci sono dei metalli che non quando creo delle leghe metalliche poi non riesco a tornare indietro a ritornare a quelli principali perché occorrono condizioni di lavoro temperature che non giustificano la spesa che comporta questo passaggio quindi insomma non va bene e poi abbiamo il problema che adesso tutto è piccolo è bello è bello avere un cellulare che non ci vuole una cariola per portarselo dietro però la miniaturizzazione ha un costo che è tutto incollato è molto difficile in tutti questi componenti riuscire a recuperare i singoli metalli come si fa? si tritta tutto proprio si riduce in polvere e poi si separa per via elettrostatica dal materiale non metallico questo comporta delle perdite un po' perché le polveri volano via quindi ci sono perdite meccaniche ma anche alcuni metalli si fa un po' fatica a estrarli da questa da questa massa di polvere e poi c'è un problema di mercato perché se le cosiddette materie prime e seconde cioè i materiali da riciclo non hanno un mercato che giustifica i soldi che ho speso per recuperarli li seppelliscono per terra come fa in un'azienda che credo sia vicino a Carpi dove recuperano i RAE hanno i fosfori degli schermi qualsiasi schermo dei fosfori per farci tutti i bei colori eccetera e queste sostanze si possono recuperare non vanno disperse nell'ambiente perché sono metalli pesanti però non c'è un ritorno economico quindi cosa fanno li seppelliscono per terra per cui c'è un problema proprio di costi se guardiamo questo è lo schema di un impianto tedesco una cosa fatta a norma a regola d'arte per recuperare le schede madri e le cpu dei computer allora ho estrapolato fuori da questo schema tutto quello che viene recuperato e sono sempre i soliti cioè i metalli preziosi i metalli tecnologici alluminio nickel e ferro plastica e ceramica le cose che hanno un mercato subito immediato anche se guardiamo i rifiuti sia quelli industriali che quelli urbani gira e rigira sono sempre i soliti cioè c'è la giochiamo la quantità massiccia con 8-10 elementi della tavola periodica sono sempre quelli c'è anche un problema etico che la gestione e l'estrazione di alcuni minerali e metalli che sono indispensabili soprattutto per gli smartphone i tablet eccetera provengono sono estrati nella Repubblica democratica del Congo dove la gestione è in mano a privati che sono dei signorotti locali che si fanno le loro guerre si finanziano le loro guerre con quello che guadagnano dall'estrazione e dal contrabbando di questi minerali perché adesso non li possono legalmente vendere ma vanno in giro per il mondo ugualmente e l'assurdità è stata sottolineata da questa parlamentare laborista britannica che ha origini è di origine africana che appunto ha scritto nel suo libro proprio all'inizio proprio a prima pagina che i bambini in Congo sono mandati a morire nelle miniere affinché altri bambini in Europa e in America possano uccidere alieni immaginari aperta a parere Pokémon chiusa parentesi nella loro sala da pranzo o mandarsi messaggini nella stessa stanza che è una cosa che è assolutamente inutile il costo di vita umano questo è un dato del 2016 non si trova niente di più aggiornato ma era già sottostimato allora parlavano di 11 milioni di morti sono sicuramente di più ma molti di più perché lì va a sapere tutto dipende dai famosi dai fantastici quattro che sono lo stagno che si trova nella cassiterite il tantalio che si trova nella columbite tantalite detto anche coltan il tumsteno che si trova nella volframite e l'oro che si trova già come oro sono i minerali da conflitto perché gli servono in queste zone di guerra come materiale di scambio qui sono le condizioni di lavoro a sinistra abbiamo lo stagno a destra abbiamo il coltan quindi alla vostra età l'età delle superiori sareste a raccogliere le secchiate le ragazze purtroppo fanno una fine peggiore in quei posti lì come sempre i bambini a sguassare nel fango per estrarre l'oro blu questo è il coltan e queste sono le zone di raccolta una visione aerea oltre alla devastazione dell'ambiente queste sono aree protette eccetera ci sono due documentari molto crudi quindi siete avvisati che non è una visione sia per quello che si vede ma anche per quello che si sente dire tranquilla che hanno cercato di documentare questi hanno fatto loro rischi e pericolo perché andare lì è pericoloso comunque filmare i rischi che ti sparino hanno cercato di documentare questa situazione è molto difficile per i produttori lo dicono che non ce la fanno ma sia la Samsung che la Nokia che la Apple tutte le più grosse dicono che loro non sono in grado di seguire tutti i passaggi della filiera produttiva o perlomeno gli fa comodo dire che non ci riescono perché c'è un paese che produce poi i paesi confinanti lo vendono perché il Congo non potrebbe vendere li vendono quelli vicino poi vengono estratti e ripuliti in altri paesi la produzione degli oggetti avviene in altri e il consumo avviene in tutto il mondo quindi è molto complicato in questa cosa riuscire a gestire le cose cosa si può fare vi dicevo la ricerca scientifica sta facendo e può fare tantissimo mi piace sempre far vedere questa ragazza che faceva il dottorato nell'università della California e ha scoperto insieme ad altri come prolungare la vita delle batterie di migliaia di volte adesso è stata assunta alla Intel come ingegnere di processo e naturalmente è già stato detto che queste batterie non le troveremo mai sui cellulari perché di solito li buttiamo via prima ma pensate a un satellite artificiale una stazione di ricerca nello spazio dove lì l'approvvigionamento energetico è un problema questo è oro allo stato puro e poi una delle soluzioni è la progettazione modulare degli oggetti adesso tipo hanno cominciato con gli smartphone c'è il Fairphone e poi ce n'è un altro il Shiftphone tedesco che hanno i pezzi che si possono incastrare e sostituire senza cambiare tutto non solo la batteria ma anche la videocamera e altre componenti adesso pare che anche la Xiaomi ne voglia fare uno così perché è il modo migliore per recuperare i materiali infatti questo studio di fattibilità che ha analizzato i tre modi di recuperare i metalli ha detto chiaramente o fondo tutto e poi separo o trito tutto e separo quello che abbiamo visto prima oppure separo i pezzi e li mando ognuno la sua filiera a conti fatti come energia inquinamento recupero qualità dei materiali smontare e avere le filiere separate è la cosa migliore poi come vi ho anticipato si cercano miniere questi sono depositi non necessariamente già aperti sappiamo che ci sono e ce li teniamo buoni in caso di penuria sappiamo dove andare a cercare e poi si sta lavorando molto sugli oceani perché nei fondali degli oceani per alcuni metalli ci sono giacimenti superiori a quelli terrestri si chiama il deep sea mining ci vogliono delle piattaforme tipo quelle petrolifere e poi ci sono questi noduli che vengono estratti certamente sono tecnologie che costano parecchio perché è tutto più complicato in acqua però hanno trovato un giacimento molto grosso di terre rare a largo del Giappone in oceano queste sono delle foto queste le ho trovate da pochissimo tempo che fa vedere quello che si può trovare le croste di cobalto i solfuri o i noduli polimetallici vedete sono a profondità molto diciamo sono molto giù e quindi i costi e anche proprio le condizioni operative non sono facili però e dal punto di vista dell'inquennamento marino non è che siano una cosa ne parlerò in minaccia in alto mare anche di questa cosa però sappiamo che lì c'è tanto quello sciolto in acqua c'è metallo sciolto anche in acqua sotto forma di sali però diciamo che il costo dell'estrazione l'aveva già visto a Free Saber a suo tempo non compensa i costi quello che si può guadagnare per cui ancora quello è lontano però questi noduli polimetallici sono molto interessanti un'altra cosa ritornando agli autostoppisti è che nelle vecchie miniere chiuse ci sono questi depositi di scorie c'è la roba che non serviva ma lì magari c'è un sacco di roba che adesso è interessantissima che allora magari nell'ottocento non interessava nessuno e invece adesso potrebbero essere veramente una ricchezza e poi c'è lo spazio si sa che ci sono terre rare metalli preziosi perché c'è tutto questo revival di spedizioni spaziali un po' è quello che chiamano uno show off e farsi vedere dal punto di vista anche politico lo era stato così anche negli anni 60 e 70 ma c'è anche una ricerca di materiali che valgono sulla luna ce ne sono la luna è vicino ce ne sono tanti sulla fascia degli asteroidi la NASA ci sta lavorando da anni questa è la sonda Osiris quindi sono dati abbastanza recenti e nella fascia degli asteroidi ci sono tanti metalli ci sono i metalli quelli industriali quelli da massa e ci sono i metalli anche del gruppo del platino estrarre su un asteroide un metallo pesante significa non dover trivellare molto a fondo perché la massa è piccola però ci sono dei problemi tecnici perché non hanno gravità quindi quando io mando un assondo devo trivellare e ottenere presente che qualsiasi cosa che smuovo mi schizza nello spazio e non si ferma più compresa la polvere quindi ci vuole una tecnologia completamente diversa dall'estazione mineraria sulla terra che è basata sulla gravità qui non si può usare ci sono negli Stati Uniti delle facoltà universitarie in cui ci si laurea in ingegneria mineraria spaziale quindi hanno già delle strutture dove creano una gravità assenza di gravità artificiale per capire che tecnologie si devono utilizzare perché è un mondo nuovo ma ci stanno già lavorando questo è l'asteroide più coccolato della fascia si chiama Psyche 16 è tutto ferro e nickel è una miniera che si muove e infatti sono lì che stanno studiando come fare per tirarla sulla terra senza evitare l'armageddon del film perché qualcuno dice la spacchiamo sì ma se io ci metto una carica quei pezzi lì vanno in giro per l'universo universo non l'universo mondo ma l'universo universo quindi va ingabbiato insomma non è una cosa semplice ma ci stanno lavorando siamo alla fine qui entriamo in gioco noi mi tengo sempre il gran finale perché così ce lo ricordiamo di più ognuno di noi può giocare un ruolo importantissimo nel riuso intelligente nel riciclo responsabile riuso intelligente vuol dire quando una cosa si rompe prima cerco di aggiustarla prima di buttarla il riciclo responsabile quando è finito il suo ciclo di vita lo porto dove può essere recuperata come si deve quindi nelle aree ecologiche o dai produttori io ho cambiato la lavatrice mi hanno portato la nuova e si sono portati dietro quella vecchia quindi lo stesso col congelatore le cose piccole si portano anche personalmente quella era un po' pesantina e quindi tanto avevo già pagato il trasporto per la consegna e loro non ti fanno un favore perché noi quando compriamo qualsiasi cosa elettronica noi paghiamo in anticipo all'acquisto una tassa per lo smaltimento quindi in realtà non ci fanno un favore ci erogano un servizio che abbiamo profumatamente pagato giusto per saperlo vi faccio vedere questa perché è molto interessante l'ho conosciuta l'anno scorso ho anche partecipato a una tavola rotonda con alcuni degli organizzatori si chiama AirCNC come è l'equivalente tecnologico dell'AirBNB è una start up di giovani che lavora nel settore metallurgico l'idea è è stata di creare una piattaforma web italiana in cui quelli che lavorano in quel settore possono incontrarsi perché lo scatto di una lavorazione di un materiale può essere la materia prima per un altro oppure c'è un'azienda che ha un tempo macchina libero tot mesi l'anno che può affittare un'altra azienda che ne ha bisogno non per tutto il tempo quindi è un modo senza cambiare nulla di massimizzare la resa riducendo gli sprechi al minimo questa è una cosa molto intelligente perché non stravolge un sistema ma è operativa da subito infatti hanno ricevuto vari premi perché sono tante le aziende che si stanno associando sono tutte PMI che lavorano in questo settore è una cosa molto intelligente a volte basta anche un'idea buona per fare tanto in questo settore che loro non è che abbiano delle infrastrutture tecnologiche metallurgiche ma fanno parlare le persone e poi noi come consumatori dobbiamo imparare a darci una regolata non è possibile che noi cambiamo uno smartphone tutti gli anni parlo dello smartphone ma anche di altre cose perché non ce la faremo per tanto tempo a fare così perché tante volte si corre dietro alla moda perché è un modo per fa figo avere l'ultimo l'ultimo modello ma non è che dobbiamo fare come le faline che appena c'è una lucina tac 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 si attaccano perché la cosa a un certo punto finisce e queste sono le famose code per l'iPhone X la foto di prima era Roma ma abbiamo Londra Singapore Sydney e Tokyo tutto il mondo e folle allo stesso modo quindi io ho concluso la prima parte io direi adesso prima di fare il CAUT magari se abbiamo avete delle domande così lo fate anche meglio ecco allora adesso per il momento vediamo ecco ricompaio così perché so che per il CAUT devo tenere il mio schermo perché altrimenti in una scuola non riuscivano a vedere le domande per cui adesso lo tengo pronto quindi se ci sono domande sono qua non sento niente ecco ecco abbiamo una domanda una ragazza vieni sì perché in classe con l'eco non si sente se non si avvicini al microfono buongiorno allora volevo chiedere per quanto riguarda la questione degli elementi più rari secondo lei fra 10, 30, 50 anni come sarà la questione sul piano globale cioè fra guerre per giacimenti eccetera un'ipotesi è una situazione è molto critica perché ci sono le guerre sotterranee cioè ci sono queste multinazionali che a volte anche legate ai governi che stanno colonizzando perché abbiamo quello pensiamo all'Africa perché è una delle cose di cui si sente più parlare ma anche avremo il problema dell'acqua ci sono multinazionali dell'acqua come la Danone che stanno comprando da anni le sorgenti di acqua in tutto il mondo quindi in realtà lo scenario non è tranquillo ci siamo accorti adesso con la crisi del gas e quanto ci aumenteranno le bollette quanto questo problema sia abbastanza vicino non ce l'aspettavamo un'impernata del genere non ci aspettavamo che le componenti elettroniche che pure ci sono sono difficili da recuperare perché c'è stato un blocco nei porti c'è un porto a Los Angeles che è uno degli snodi grossi del materiale che arrivava dalla Cina che si è intasato tutto quindi effettivamente c'è un problema anche di progettazione a lungo termine cioè nel senso che siamo abituati ormai che dappertutto ci invitano sempre a riflettere sulle cose nel breve termine facciamo subito vogliamo i risultati subito ma dobbiamo investire sulle infrastrutture e sul fatto che noi abbiamo delocalizzato così tanto che ci sono delle zone del mondo dove praticamente sono concentrate tutte le fabbriche di un determinato oggetto anni fa c'è stato un alluvione in una zona in Asia dove c'erano tutti gli hard disk di tutto il mondo sono prodotti in quella zona lì addirittura erano negli stessi edifici per cui per esempio c'era l'azienda che tipo l'HP che si era salvata perché aveva gli edifici aveva la fabbrica al quinto piano quelli che ce l'avevano piano a terra erano andati sotto ma si era rotto l'hard disk del portatile strategicamente proprio si è spaccato mentre stava andando e sono riuscita a trovarne uno ma con fatica e pagando molto di più del normale perché si era bloccata la produzione terremoto di Taiwan c'è stato il problema di alcuni chip elettronici che sono prodotti solo lì quindi noi abbiamo fatto per questione di costi una delocalizzazione di tante produzioni che si sono poi concentrate nelle zone dove le risorse costano di meno e dove diciamo che dal punto di vista ambientale chiudono uno anche tutte e due gli occhi perché il fatto che le terre rare negli Stati Uniti non le producano più oppure va ad alti e bassi è semplicemente perché da loro produrle costa di più che comprarle già purificate dalla Cina però questo crea dei problemi a livello di gestione globale e se non ci guardiamo un po' e dobbiamo cominciare da subito e non dire che facciamo tanti discorsi poi ci troviamo a secco con qualcosa perché adesso si discute del PNRR delle rinnovabili ma dobbiamo tenere presente che le rinnovabili dipendono da una serie di materie prime critiche senza quelle non funziona non è che il sole io mi scaldo cioè non è che posso prendere il raggio di sole o la folata di vento e li caccio dentro la l'aspirapolvere la lavatrice o il condizionatore tutta la trasformazione è tecnologicamente impegnativa e non è neanche tanto sempre pulitissima dal punto di vista ambientale che l'energia pulita 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 non esiste cioè noi magari vediamo la parte finale ma quello che ci sta a monte non è così così tranquillo e quindi c'è una ci sono delle scelte che possiamo fare noi come persone come consumatori e anche come persone che votano perché anche lì questo ha un suo peso ma ci sono delle cose che devono essere fatte a livello governativo e ci vuole gente che sappia quello che sta facendo perché io la vedo molto una cosa molto delicata nel futuro perché si fanno tanti bei discorsi però a volte le scelte fanno un po' pensare adesso c'è il discorso del ritorno al nucleare bisogna dirlo chiaramente se io voglio tanta energia in fretta la centrale è quella che te la dà la Cina ha fatto tante centrali nucleari di nuova generazione perché solo con le rinnovabili non ce la facciamo nel senso che arriviamo al massimo a un quarto del fabbisogno quindi è poco il problema è che cominciare a metterle su adesso ci vogliono 20 anni in Italia ci vogliono sicuramente 20 anni o anche di più per fare una centrale quindi non è che risolviamo il problema di adesso quindi anche lì bisogna pensarci un attimo perché poi abbiamo il problema delle scorie quindi anche lì sulle energie sento tante chiacchiere che poi dicono che nelle rinnovabili si mettono il nucleare e il gas su quello ci sarebbe molto da dire obiettivamente perché ho appena finito di leggere un libro su Chernobyl e quindi fatto bene e da da pensare ma non per la tecnologia in sé a me non preoccupa la tecnologia ecco gli umani che se ne devono occupare perché quelli non sono infatti la tecnologia se fatta bene può essere anche gestibile ma l'umano deve sapere quello che fa e soprattutto non cedere alle logiche di profitto perché se Chernobyl è stato un casino perché sono stati una serie di errori perché in realtà era lì quello che è successo con Fukushima che rimano privati è stato anche peggio perché lì hanno veramente fatto delle cose sprecate anche i soldi e poi adesso non sappiamo dove metteranno perché devono vuotare le cisterne hanno fatto mille cisterne per raccogliere l'acqua radioattiva di raffreddamento queste sta adesso tra poco saranno tutte piene loro hanno deciso che forse le hanno ripulite però c'è del trizio perché quella non si riesce a togliere tutte e sembra che le vogliono versare nell'oceano e quindi sono tutti incavolati giustamente perché ma non si sa dove mettere per cui la situazione non è tranquilla e ci sono paesi che si stanno armando in maniera incredibile c'è il Giappone nell'Oriente in Europa abbiamo la Turchia che hanno degli eserciti belli forti agguerriti e si stanno attrezzando quindi non sono proprio rilassata rilassata sul futuro di quello che ci sarà perché a volte anche i nostri telegiornali ci presentano sembra che esista solo l'Italia ma esiste anche il mondo e tante cose si muovono per cui anche a voi il consiglio che dopo voi che siete giovani informatevi leggete cercate di capire perché quella che è l'informazione media è un po' ridotta almeno quello che passa alla tv ecco io guardo qualcosa ma bisogna andare un po' più a fondo perché è un mondo complesso il nostro e non è non è un mondo tranquillo perché ci sono appetiti ci sono tensioni ma c'è sempre qualcosa dietro che comunque è legato a risorse a materiali che è un po' più a fondo che è un po' più a fondo per esempio Grazie a tutti. Grazie a tutti.